Musica Grande attesa per l'inaugurazione della 21esima edizione di Expo Sposi, il salone interamente dedicato al mondo sposi che si terrà presso il Real Collegio di Lucca da venerdì a domenica. Pur in un momento di difficoltà, sono oltre 70 gli espositori che daranno la possibilità ai futuri sposi di trovare una miriade di idee innovative per il giorno più importante della vita. Presenti tutti i settori necessari all'organizzazione di cerimonie nuziali, abiti da cerimonia, accessori per il look della sposa, fotografi, estetiste, parrucchieri, wedding planners, agenzie di animazione, musicisti e agenzie di intrattenimento, liste nozze, fioristi, location come ristoranti, agriturismi, ville storiche, stabilimenti balneari e hotel, agenzie di viaggio, catering, bomboniere e auto da cerimonia. Franco Pegonzi, scultore lucchese di fama internazionale, sarà presente con alcuni pezzi della sua prestigiosa collezione all'interno dell'Expo. Le sue opere, realizzate prevalentemente in marmo, granito, bronzo e ferro battuto, sono apprezzate in tutto il mondo e in particolare in Italia, Francia, Germania, Grecia e Corea. La promolucca editrice che cura questo evento è orgogliosa di ospitare l'artista lucchese che attraverso la sua arte ha contribuito ad impreziosire molti luoghi e palazzi del mondo, facendo apparire ovunque la creatività e il genio che caratterizzano lo spirito lucchese. Pegonzi, esportando le sue opere, è riuscito a far affermare l'immagine della città di Lucca come terra di ispirazione. Nell'ambito di questa romantica cornice saranno molti gli appuntamenti dedicati alla bellezza e all'affascinante arte del cake design, la moda delle meravigliose torte monumentali arrivate dagli States e ormai dilagate anche in Italia, grazie soprattutto alla sapienza dei nostri pasticceri che hanno saputo reinterpretare le ricette, rendendole appetibili anche per i palati più esigenti. Venerdì alle 16 la caffetteria San Colombano offrirà un buffet con drink inaugurale. Alle 17 si trarà alla conferenza Consigli pratici per la scelta della torta nuziale, curata dalla docente di cake design Federica Frassi. Sabato mattina alle 10 è previsto il corso dedicato alle decorazioni di una wedding cake monumentale tenuto dal cake designer Piero Caniparoli. Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0583 28 411. Alle 16.30 appuntamento nella sala conferenze con lo stile e l'immagine del matrimonio, conferenza a cura della consulente dell'immagine Roberta Sardelli. Domenica alle 15.30 è previsto l'incontro dedicato al cake design e le decorazioni delle torte nuziali, sempre a cura di Piero Caniparoli. Expo Sposi si caratterizza per la sempre più ricercata cura degli allestimenti e per l'attenta selezione delle realtà commerciali presenti che offrono beni e servizi di elevato standard qualitativo. Qui i visitatori avranno la possibilità di contattare contemporaneamente i diversi operatori del settore in uno spazio comodo, piacevole e funzionale per chiedere e confrontare in un solo giorno le diverse offerte e i vari preventivi di spesa. Per concludere in bellezza, domenica sera alle 18.00 sarà proclamato l'autore vincitore del premio letterario La frase d'amore più bella. Le informazioni necessarie per partecipare e tentare di vincere un bellissimo vestito da sposa e un abito da sposa si trovano sul sito promolucca.it Ricordiamo infine gli orari della manifestazione. Venerdì 15.30-19.30 Sabato e domenica ore 10.00-19.30 L'ingresso è libero. La frase d'amore è una canzone d'amore solo per me La frase d'amore è una canzone d'amore più bella